Il Governo, e qui presente la Ministra Azzolina, ha lavorato già da tempo per permettere ai nostri studenti di rientrare a scuola a settembre, coinvolgendo tutto il mondo dell'istruzione, in tutti i suoi comparti, associazioni di genitori, associazioni di studenti, sindacati, dirigenti scolastici, scuole paritarie. Ci siamo predisposti per ritornare in piena di sicurezza a settembre, alla ripresa. Ne sono nate le linee guida condivise, che adesso la Ministra Azzolina illustrerà più in dettaglio, che ci consentiranno, il 14 settembre dicevo, di far tornare i nostri ragazzi, i nostri figli in classe, in condizioni di massima sicurezza. Chiudere le scuole è stata una scelta molto sofferta, che nessuno pensi che il Governo ha preso questa decisione a cor leggero. È una decisione che ci ha impegnato severamente in un'ampia discussione. Alla fine ci siamo determinati, anche confrontandoci con il Comitato Tecnico Scientifico, per questa soluzione, perché abbiamo alla fine valutato che fosse quella che garantisse maggiore sicurezza ai nostri figli e anche a tutti i genitori e familiari che con loro convivono.